Il sito è www.fiso.it, molto semplice, FISO per Federazione Italiana Sport Orientamento. Bene, allora, in bocca al lupo, insomma, questo è uno sport che poi possiamo praticare tutti. Quindi, basta con il calcio, no? Beh, no, no, sì, insomma, serve anche il calcio. Certo. Però, dicevo, ma quanti sono gli iscritti? Avete più o meno un numero? Non abbiamo tantissimi, abbiamo circa 5.000 iscritti, tesserati. Poi, però, è uno sport che viene praticato anche da parecchi enti di promozione sportiva, per esempio il CSI ha dei circuiti suoi, e poi c'è una grandissima partecipazione delle scuole. Noi abbiamo il nostro sport, tutti gli anni abbiamo le finali regionali scolastiche in tutte le regioni italiane. L'anno scorso abbiamo fatto le finali nazionali in Calabria, quest'anno le facciamo in Basilicata. Vi dicevo che stavamo cercando di portarlo al sud. Quest'anno c'è un altro campionato del mondo in Italia, in maggio, ed è il campionato studentesco internazionale. Beh, allora, potremmo seguirvi comunque via internet, perché comunque sul web tutti gli aggiornamenti li abbiamo. Grazie ancora. Ringraziamo Marco Patucchi, Sergio Grifoni, Stefano Mappa, Massimo Piscenda, e tutti voi, grazie che ci sopportate, ci vediamo sabato prossimo, chiudiamo con la clip sui gol più belli della Serie B. Ciao, ciao, grazie Don, grazie a voi, grazie Simona, ciao.